Intervento dei vigili del fuoco in via Canove nel parcheggio della piscina comunale di Sant'Urbano in provincia di Padova per l'incendio di un'autovettura ibrida che ha coinvolto anche un'auto vicina. Le fiamme hanno avvolto l'auto rapidamente riducendola ad un cumulo di rottami. Nonostante la prontezza dei soccorsi il veicolo è risultato irrecuperabile. Fortunatamente non si segnalano feriti. Le cause dell'incendio non sono ancora state chiarite e gli inquirenti stanno conducendo le indagini necessarie per determinare se si sia trattato di un guasto tecnico, di un cortocircuito o di altre circostanze ancora da definire. I vigili del fuoco arrivati tempestivamente sul posto dalla stazione di Este con un'autopompa e un'autobotte hanno lavorato duramente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Sul posto presenti anche i carabinieri. L'intervento è durato oltre cinque ore.